Un centro storico blindato, quello visto nella serata di lunedì a Forlì, dove si sono confrontati a distanza un gruppo di militanti di forza nuova e alcuni movimenti antifascisti. Tanta era la preoccupazione delle forze dell'ordine, motivata soprattutto dagli scontri avvenuti poche settimane prima in Piazza della Misura. Per prevenire il pericolo, infatti, il Comitato dell'Ordine Pubblico aveva nei giorni scorsi proibito al gruppo di estrema destra di riunirsi in corteo, concedendo ai manifestanti di restare fermi in un'unica zona. Per tutta risposta, Lampi ha chiamato a raccolta ancora una volta i cittadini forlivesi contrari ai movimenti antifascisti. Risultato? Due presidi, uno quello della sinistra in Piazza Saffi con 300 persone tra sindacati, partiti e associazioni, l'altro quello guidato da Forza Nuova che si è radunato poco dopo in Piazza del Duomo e contava circa 100 partecipanti. Nonostante l'esigua distanza poche centinaia di metri, i due gruppi non sono mai entrati in contatto, complice anche il cordone di sicurezza disposto dalle forze dell'Ordine. Nonostante il successo della serata, almeno in termine di ordine pubblico, sono in tanti nel mondo della politica ad aver espresso preoccupazione in merito ai disordini dell'ultimo periodo, tanto che il Consiglio provinciale ha approvato un ordine del giorno che propone un coordinamento delle istituzioni democratiche contro il fascismo.